iniziamo il live streaming bene 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 vediamo un po' il programma è avviato vediamo cosa dicono i social allora su youtube siamo live molto bene adesso vediamo se andiamo live anche su facebook naturalmente fatemi sistemare un po' di cose puntuali come un orologio svizzerissimo tra l'altro siamo live benvenuti ciao a tutti eccoci qua aspettate che metto tutto bene benvenuti benvenuti al nostro appuntamento del martedì e del giovedì pomeriggio adc live sempre alle 16 sempre in diretta naturalmente su facebook e su youtube vediamo un po' se qualcuno si unisce a noi oggi puntualissime alle 16.00 spaccate ho iniziato la live di di che cosa parliamo oggi beh oggi ci facciamo una bella chiacchierata su un tema molto interessante legato ma un po' parallelo anche al mondo dello studio che di solito trattiamo comunemente nella nostra la nostra live oggi parliamo di pensiero critico di che cosa vuole dire e di qual è il rapporto tra il pensiero critico e l'apprendimento lo studio eccetera ma prima lancio la sigla come è giusto fare 3 2 1 sigla eccoci qui sigla sempre velocissima solo due secondi però fa piacere lanciarla quindi come al solito fatemi sapere se siete qui se ci siete da youtube se ci siete da facebook mettete un bel mi piace soprattutto commentate condividete come sapete il bello di queste live è proprio il nostro rapporto e proprio oggi ho pensato proprio di fare una chiacchierata un po' più rilassata perché alla fine parliamo veramente sempre di metodo di studio e di tecniche di metodologie di quello che è giusto quello che è sbagliato fare eccetera eccetera però oggi voglio voglio trattare un tema che mi sta molto a cuore che mi piace molto e che è da un po' che non torna ciao ciao Nicolò non torna sulla mia pagina perché sapete che nel 2018 la mia produzione video è stata un po' più varia nel senso che ho trattato moltissimi temi ho trattato la cultura ho trattato proprio il pensiero critico la logica eccetera mentre nel 2019 mi sono un po' più focalizzato solo sulla parte di studio di apprendimento anche perché quello è il mio focus principale ed è chiaramente il focus principale del mio lavoro e quindi è lì che ho battuto e ci sta e voglio comunque che il metodo di studio e lo studio e l'apprendimento eccetera rimanga il cuore di questo canale però mi piace ogni tanto anche parlare di qualcosa di diverso buonasera Caramela e Cristina vediamo un po' quindi da YouTube abbiamo già visto un paio di saluti vediamo un po' cosa mi dicono invece su Facebook molto molto bene quindi se vi interessa l'argomento di cui parliamo se vi piacciono questi appuntamenti live come al solito condivideteli in modo che le persone che ci seguono insomma arrivino e aumentino così che possiamo parlare in gruppo allora allora oggi parliamo di pensiero critico e questo è un tema che mi sta veramente molto molto a cuore sapete che io sono un appassionato dell'idea della logica dell'argomentazione del pensiero critico dell'idea per la quale se si possa in qualche modo addestrare a pensare in modo più efficace che può sembrare qualche cosa di strano perché uno dice ma come io penso penso con la mia testa ragiono come faccio a essere più efficace nel ragionamento in realtà ci sono moltissimi strumenti ma soprattutto moltissime abitudini che si possono sviluppare per diventare più efficaci con il pensiero critico e io stesso oggi vi racconto anche un po' di questa cosa qui io stesso ho attraversato diverse fasi naturalmente della mia vita in cui sono stato più o meno critico sono andato migliorando nel corso del tempo e sebbene nessuno sia perfetto e tutti quanti compreso me cadiamo nelle bufale nelle balle nelle fake news eccetera eccetera si diventa sempre più abili si diventa sempre più resistenti e più addestrati alla criticità e poi cercheremo di capire anche appunto che ruolo ha tutto questo nel processo di studio e in quello che facciamo tutti i giorni insomma ecco naturalmente voglio sapere anche le vostre storie di le cose a cui avete abboccato i momenti della vostra vita in cui avete abdicato al vostro senso critico e i momenti in cui invece siete stati più solidi allora per prima cosa cerchiamo di come al solito definire di che cosa stiamo parlando che cosa voglia dire di per sé pensiero critico critical thinking come lo chiamano in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti dove insomma questa cosa del movimento del critical thinking è venuto fuori perché sapete ciao Fabrizio sapete che nel mondo anglosassone è un mondo anche molto di contraddizioni molto interessante la cultura se vogliamo anglosassone da questo punto di vista perché abbiamo da un lato un mondo tecnologicamente avanzato leader nelle scienze eccetera eccetera dall'altro però proprio gli Stati Uniti d'America sono un paese fortemente talvolta bigotto fortemente legato a certe tradizioni un po' chiuse eccetera eccetera e quindi è lì in particolare negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna che un po' c'è stata una resurrezione di questo movimento critico negli ultimi anni con personaggi pazzeschi e oggi volevo proprio partire dal lavoro e poi mettervi magari anche dei link di una persona che ha fatto del pensiero critico la sua carriera ed è Michael Shermer Michael Shermer è un ricercatore un dottore naturalmente ed è il fondatore di Skeptic Magazine che è un bellissimo bellissimo giornale appunto dedicato allo scetticismo eccetera eccetera e partiamo quindi ho fatto una P potentissima partiamo quindi cercando di definire che cosa sia cosa voglia dire pensiero critico allora pensiero critico è tutto un insieme tutto un insieme direi di atteggiamenti ok volti a sviluppare l'idea di non accettare in maniera passiva e automatica quello che ci viene detto ma filtrarlo filtrarlo per arrivare più facilmente alla verità verità che non si intende con la V maiuscola cioè non si parla della verità assoluta sapete tipo appunto guru della montagna come cito sempre prima o poi dovrò conoscerlo sto guru della montagna che io sempre cito non so neanche se esista ma va bene ma si parla di verità con la V minuscola singole verità empiriche per esempio cioè quando si parla di pensiero critico c'è sempre in mezzo l'idea della scienza la scienza che è sostanzialmente pensiero critico sistematizzato e reso un metodo da applicare alla ricerca sulla natura ok ma in generale si può approcciare con un pensiero critico qualsiasi cosa ok allora quali sono le caratteristiche del pensatore critico perché qualche volta il termine per esempio scettico è un termine ma anche appunto critico sono dei termini che hanno visto nel corso del tempo anche una sorta di accezione negativa cioè il critico lo scettico nel sentire comune è un po' rompipalle dai diciamocelo è quello che è il santommaso che non ci crede finché non ci mette il naso è quello che deve rompere le balle è quello che deve sempre mettere in discussione che deve fare il bastian contrario ecco questa è una concezione profondamente ingiusta e sbagliata perché in realtà il critico lo scettico non è quello che a priori non crede a niente o che a priori deve sempre rifiutare quello che pensano gli altri non è questo il punto il critico lo scettico perlomeno quello che dovrebbe definirsi tale è una persona che è pronta a credere ad accettare qualsiasi cosa a patto che gli vengano presentate gli vengano mostrate gli vengano sottoposte delle motivazioni delle prove dei dati delle argomentazioni eccetera che lo convincano quindi semplicemente l'idea dello scetticismo non è appunto non credo a niente ma è credo a ciò che è sostenuto da un'argomentazione logica coerente da delle prove da dei fatti da delle cose riscontrabili ecco questo è il motivo per cui per esempio esulano dal discorso sullo scetticismo e sul come dire sul critical thinking esulano di per sé le religioni perché si occupano di argomenti un argomento metafisico che non ha nulla a che fare con ciò che possiamo riscontrare tangibilmente nella nostra vita quotidiana e quindi non c'è molto da dire dal punto di vista critico scettico bisogna sospendere il giudizio dire boh è una cosa come un'altra non ne sappiamo niente se invece lo scettico si trova davanti il tizio che crede di essere stato rapito dagli UFO si domanderà come posso fare a capire se questa persona è stata effettivamente rapita dagli UFO oppure no c'era il famoso divulgatore scientifico che io adoro Neil deGrasse Tyson americano che diceva sempre se mai vi capitasse di essere rapiti dagli alieni fate così fregate qualcosa rubate un cucchiaino o qualche cosa che passa perché sicuramente una civiltà extraterrestre che vi rapisce avrà una tecnologia e una padronanza dei materiali tale che porterete sulla terra un oggetto che farà scalpore perché qualunque cosa anche la loro posata per mangiare degli alieni sarà qualcosa di enorme per la scienza umana e vi crederanno tutti cioè io vi crederò vi crederò al fatto che siete stati su un'astronave aliena quando vi fregherete qualche cosa ve lo porterete a casa ecco quindi questa è un po' l'idea cerchiamo di capire quali sono gli strumenti e perché è così importante oggi perché è così rilevante nel 2019 ma anche nel 2018 nel 2017 eccetera questa idea di pensiero critico diventa sempre più importante man mano che passa il tempo perché più aumenta la nostra capacità di avere accesso alle informazioni e più aumenta il rischio di accedere ad informazioni adesso arrivo Davide di accedere a informazioni che non hanno senso o che sono false o che sono scorrette o che sono non logiche o che sono qualsiasi cosa un tempo era difficile che fosse così perché per esempio mettiamo mettiamo caso un caso eclatante classico è quello delle bufale sulla medicina mettiamo che esce fuori il classico articolo che ti dice che con la spremuta di limone si cura il tumore va bene una cosa che non sta né in cielo né in terra ma ne abbiamo avute di mille dal veleno dello scorpione cubano al bicarbonato al metodo stamina adesso ci sono casino con i vaccini insomma mille di queste cose qua un tempo la persona media che purtroppo si ammalava di tumore non veniva in contatto con queste informazioni sulla spremuta di limone che ti cura andava dal suo medico e il medico gli diceva quella che era lo stato dell'arte della scienza in quel momento sul tumore poi lasciamo perdere il fatto che anche i medici sbagliano che anche i medici possono essere di parte possono avere bias tutto quello che volete ma in generale c'era un esperto che ti diceva che cosa dovevi fare e tu ci credevi eccetera nel momento in cui per fortuna io la vedo come una cosa positiva si è democratizzato l'accesso alle informazioni cioè noi possiamo googlare limone tumori e vedere cosa ne viene fuori siamo sottoposti a il mare magnum e quindi diventa molto più importante nella nostra vita di tutti i giorni e nello studio adesso ci arriviamo perché lo collego all'apprendimento vedrete che ci arrivo diventa sempre più importante avere una serie di skill una serie di abilità che ci permettono di distinguere che cosa è una boiata pazzesca e che cosa invece può essere interessante vediamo cosa mi scrivete intanto Davide ciao Ale vedo che stai già meglio si sto meglio devo dire che questa cura antibiotica mi sta un po' tirando su quindi sono contento riguardo il pensiero critico un tema molto attuale è vista la tendenza delle persone ad ignorare volutamente le prove scientifiche a favore di dicerie e storielle assolutamente sì e adesso ne parliamo bene Giulia ciao Alessandro grazie dei tuoi video molto utili puoi fare un video su come migliorare l'esposizione orale assolutamente sì anzi guarda me lo scrivo perché sennò poi me lo diventico mentre parlo esposizione così me lo metto nella mia lista sapete che io ho una lista infinita di video da fare da cui pesco in realtà cerco di pescarci il meno possibile perché mi piace improvvisare alla mattina mi sveglio dico che cosa faccio oggi che video faccio oggi e così mi piace mi diverte però poi quando non ho grandi idee vado a pescare dal mio file quindi il video sull'esposizione orale è in programma è in programma Giulia bene dicevo diventa sempre più importante avere questa cosa perché tra l'altro e qui si lega anche al tema dell'istruzione io non sono a volte ti scappa la pazienza ti incazzi eccetera però io in generale non credo che sia del tutto colpa dei creduloni se abboccano alle balle credo che per esempio la questione del pensiero critico sia qualche cosa con cui uno non nasce io per esempio qui vi faccio un caso personale sono sempre stata una persona molto critica di mio però ci sono stati dei momenti della mia vita in cui ho creduto in una boiata oppure l'altra per esempio quando avevo 16 anni mi sono invasato tantissimo sapete quella teoria degli alieni che hanno fatto iniziare la razza umana teoria che ha cominciato con gente come Zeccaria Sitchin e poi Fingerprints of Gods sono tutti questi libri in cui si parlava di questi annunaki che facevano partire la civiltà umana e ne ho letti infiniti di quei libri lì e all'epoca me li sono bevuti ero un ragazzino e mi affascinava questa cosa mi è sempre piaciuta la fantascienza capite mi è sempre piaciuta questa roba qua e ci ho creduto ci ho creduto per un po' creduto non abbastanza magari da diventare un invasato ma insomma ero abbastanza così mi leggevo tutti questi libri eccetera e poi ho ho nel tempo sviluppato una serie di strumenti di cui oggi parliamo che mi hanno fatto capire che erano delle puttanate però ci sono cascato ci sono cascato anch'io e sono cascato a più riprese in mille cose perché lo racconto sempre la lettura veloce che io oggi tanto sbeffeggio me la sono bevuta in prima persona prima di capire che era sbagliata e mille altre cose Fabrizio dice quindi il pensiero critico è una dote naturale oppure da sviluppare perché non si ha grazie è assolutamente da sviluppare ci sono sicuramente delle persone che di natura sono più curiose magari rompiballe cercano di andare a cercare quello che ci sta dietro le cose ma è assolutamente una abilità da sviluppare da imparare e da esercitare soprattutto perché tutti e quando dico tutti intendo dall'ultimo dei creduloni a Richard Dawkins abbiamo nella nostra biologia nel nostro cervello la tendenza a credere a certe cose perché siamo proprio strutturati per questo quindi siamo tutti dei creduloni alcuni di noi sono più addestrati di altri a resistere alle tentazioni della creduloneria a tutti noi piace sentirci dire quello che quello che già crediamo no? io la penso in un certo modo e mi piace tantissimo se gli altri me lo confermano no? è evidente no? ecco quindi questa cosa qua per cui diventa sempre più importante sviluppare un set di strumenti e allora adesso vi condivido subito un articolo che ha trovato interessante dieci punti di Michael Shermer per l'appunto aspettate che ve lo metto in live bam dieci punti per migliorare le vostre critical thinking skills che adesso guardiamo insieme sono dieci step per cercare di capire per cercare di potenziare la nostra capacità di distinguere tra le boiate e le cose serie la prima è e questa è si apre il grande il grande galleggerone la prima il primo consiglio che ci dà appunto Michael Shermer è domandarci ci sono tutta una serie di domande naturalmente la domanda di per sé è il veicolo dello scettico quanto è affidabile la fonte da cui abbiamo preso quella informazione e questa è la prima grande domanda quanto è affidabile allora sulla selezione delle fonti abbiamo si apre un mondo in generale però io posso dirvi questo se trovate articoli cose eccetera che fanno delle affermazioni roboanti più sono roboanti le informazioni e più sono roboanti le affermazioni e più devono essere solide le prove e quindi fonti citazioni bibliografia riferimenti dove ho letto questa cosa l'ho letta mi è capitato sulla mia bacheca facebook di imbattermi in una pubblicità che adesso non farò i nomi perché va beh di uno che mostrava questa segreta tecnica di uno scienziato russo di cui non metteva il nome non metteva niente per impadronirsi della genialità di Obama o di che ne so Elon Musk un strano esercizio per la mente inventato da un misterioso scienziato russo ecco queste robe qua è evidente che dovrebbe scattarvi un campanello d'allarme più la fonte è affidabile più avrà riferimenti più sarà citata più sarà nota non credete per favore non entriamo nel mondo delle teorie del complotto oggi perché se no non ne finiamo più anche perché poi sono appassionatissimo di queste cose quindi voglio finire che ne parlo all'infinito oh Lucas pray for critical thinking piacciono anche a Messi questi temi e dicevo non entriamo nella cosa della teoria del complotto ma in generale il sito www.nontelovoglionodire.com lascia il tempo che trova fidiamoci delle fonti riconosciute che non vuol dire per forza che solo le fonti ufficiali solo i giornali ufficiali possano dire delle cose vere non è così anche un piccolo giornale anche una piccola iniziativa anche un blog privato può dire una cosa vera solo che tendenzialmente se io devo andare a soppesare due cose se mi trovo davanti una pubblicazione di una grossa rivista scientifica importante e dall'altra il blog di veritanascoste punto illuminati punto org quale delle due mi darà come dire una solidità maggiore una fiducia maggiore ecco quindi la prima cosa da domandarsi sempre è quanto è affidabile la mia fonte nel tempo siccome non abbiamo sempre la possibilità di andare a scavare sulle fonti di tutti sarebbe bene crearsi una sorta di come dire rete rete di distributori di informazioni corretti vi dico questo tendo a a credere io ragiono così dopo due volte che una certa fonte mi mette una bufala una ballona eccetera la elimino perché se l'ha fatto una volta può succedere se l'ha fatto due volte succederà anche la terza io ragiono così quindi quando un giornale comincia a dire che chiate non sostanziate da prove roba pseudoscientifica eccetera alla prima gliela passo alla seconda lo elimino dalla mia lista così dopo un po' uno si crea una struttura chiaro che non si può neanche chiudersi e avere solo tre fonti in tutto perché si rischia di non essere mai sottoposti a un parere contrario e lì un altro problema il cosiddetto problema delle filter bubble cioè di quelle bolle dove ci rinchiudiamo e sentiamo solo la gente che la pensa come noi ecco vediamo cosa mi scrive Fabrizio quindi studiare la matematica e la lingua italiana è efficace a questo scopo assolutamente sì e infatti o meglio o meglio sì e no sì perché lo studio in generale lo studio di materie complesse che ci fanno ragionare ci fa sviluppare una serie di adesso arrivo Nicolò una serie di abilità cognitive no? la nostra capacità di ragionamento tuttavia non basta non basta studiare la matematica la filosofia l'italiano il latino la fisica non è sufficiente perché le skill del pensatore critico non vengono insegnate a scuola e questo è il primo punto di contatto tra il metodo di studio e il pensiero critico di cui vi voglio parlare cioè avere un atteggiamento critico sapere pensare criticamente aiuta a studiare meglio ma soprattutto le due cose vanno a braccetto ok? quindi si diventa più bravi ma qualcuno ve lo deve insegnare ok? ciao Ale mi scrive Nicolò quali grandi fonti hai eliminato seguendo il processo che hai appena descritto? per esempio Report Report una trasmissione che a me piaceva tantissimo con la Gabanelli no? sapete? Report una trasmissione che io adoravo le due o tre volte che ha trattato un tema di cui io sapevo qualcosa perché magari avevo letto dei libri o conoscevo la scienza eccetera e mi sono reso conto che era schifosamente di parte e che aveva riportato dei dati scorretti e ho smesso di guardarlo questo è una cosa magari mi sono perso delle bellissime cose ok? ma per esempio quella è una trasmissione che io seguivo con grande con grande passione ma ricordo per esempio un tema che aveva trattato Report e avevo trovato trattato in modo scandaloso era quello degli OGM e quello era un periodo che io seguivo tantissimo lo seguo tuttora Dario Bressanini e Beatrice Mautino se non sapete chi sono Beatrice Mautino e Dario Bressanini cosa ci state a fare qua? andate a iscrivervi subito al canale del vostro amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini un divulgatore scientifico pazzesco che ho avuto la fortuna di conoscere di persona e anche di andarci a cena con altre persone insomma all'interno del contesto di un corso del CICAP una persona meravigliosa secondo me e loro hanno scritto insieme un libro sugli OGM contro natura si chiama e io in quell'epoca appunto partendo da quel libro stavo leggendo varie cose poi mi ero imbattuto in una trasmissione di report appunto in un articolo che parlava di OGM e diceva delle fregnacce e quella era stata una volta e poi altre due o tre volte avevano affrontato dei temi che non mi erano piaciuti e io di quello l'ho scartato ho scartato quella trasmissione semplicemente vediamo è molto interessante dice Fabrizio bene Connie Island mi scrive io ho stato mesi a rincorrere teorie sul metodo di studio alla fine ho trovato che quello che mi è dato per i risultati è stato quello di collegare sempre l'informazione alla precedente certo Connie Island in generale l'associatività quando si studia è molto molto importante il studio a compartimenti stagni è l'antitesi dell'apprendimento sono assolutamente d'accordissimo Connie Island studiare a compartimenti stagni è la morte la morte dello studio bene vediamo la seconda la seconda domanda che ci pone Michael Shermer per sviluppare la nostra capacità critica la seconda è la fonte fa anche delle altre affermazioni similari ok quindi cioè ci ci domanda Michael Shermer se quando ascoltiamo qualche cosa proviamo che la fonte di cui siamo a cui siamo arrivati fa altre affermazioni simili e se analizzando la fonte da cui siamo partiti scopriamo dei pattern sostanzialmente cioè vediamo che magari è ripetuto una certa un certo bias una certa come dire una certa linea ok cioè batte sempre nello stesso modo dice sempre le stesse cose e se questa questa affermazione viene anche ripresa da altre persone ecco questo è molto importante quindi sempre confrontare le varie cose numero 3 ci dice queste affermazioni sono state verificate da qualcuno e questo è un tema importantissimo cosa vuol dire verificate verificate vuol dire tendenzialmente messe alla prova allora io lavoro in un campo che è quello dell'apprendimento del metodo di studio in cui è molto molto difficile avere delle prove scientifiche veramente solidissime perché questo perché quando si parla di comunque psicologia umana o funzionamento della mente eccetera le differenze soggettive e quello che viene definito il controllo delle variabili è molto complesso quindi io quando insegno una tecnica di studio una metodologia eccetera cerco sempre la lettura scientifica cerco sempre di leggermi gli articoli i libri eccetera tuttavia non è mai così sicuro come è sicuro il funzionamento che ne so di una molecola in biologia ok non è una scienza dura la psicologia ok e il metodo di studio non è una conseguenza tuttavia quindi non è sempre possibile arrivare a un grado di sicurezza scientifica come quello che c'è in medicina in chimica in fisica eccetera tuttavia ci si può avvicinare ok quindi bisogna sempre domandarsi se ci sono state delle verifiche degli esperimenti delle prove e non fermarsi e non fermarsi a il sentito dire o il cugino che mi ha detta così o un aneddoto ecco gli aneddoti non sono non sono una prova non è che perché uno mi ha detto che lui è guarito spremendosi il sedano in bocca allora è vero possono esserci mille casi può essere guarito per mille altri motivi può essere una balla può essere un'esagerazione può essere che si ricorda male può essere infinite cose ok quindi domandiamoci sempre se queste affermazioni sono state verificate e dobbiamo anche imparare a aggiungo io a Michael Shermer dobbiamo anche imparare a riconoscere cosa voglia dire verificare un'affermazione cioè che cosa sia una prova scientifica perché si trova sempre lo scienziato pirla c'è sempre uno scienziato pirla che sostiene la teoria strampalata perché gli uomini sono uomini gli scienziati sono uomini e come tali gli scienziati cretini è pieno il mondo cioè non è che quindi non è non basta dire ma quel dottore lì ha detto che non basta questo bisogna avere una mole di esperimenti alle spalle magari un giorno farò un video mi piacerebbe su come sulla differenza tra uno studio scientifico una meta analisi una cosa insomma magari potremmo approfondire questo tema ma in generale dobbiamo cercare di capire quale sia una fonte valida da quale non lo sia ok e quale sia una verifica da quello che invece è soltanto un sentito dire una roba buttata lì ecco la numero 4 la domanda numero 4 che ci pone Michael Sherman è molto interessante dice è compatibile questa cosa che noi abbiamo letto o ascoltato o visto con il funzionamento base del mondo cioè è una cosa che ha senso confrontata con la realtà vi faccio un esempio l'esempio classico della teoria del complotto delle scie chimiche le scie chimiche tutti gli aerei di linea spargono queste cose nel cielo bla 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 bene ed è tutto segreto nessuno dice bene se fosse vero se fosse vero mi ammettiamo per assurdo che effettivamente gli aerei spruzzino le scie chimiche bla 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 tutti quelli che costruiscono gli aerei tutti quelli che lavorano negli aeroporti tutti quelli che pilotano gli aerei tutti quelli che riforniscono gli aerei tutti quelli che hanno a che fare con gli aeroporti anche come fornitori quindi che arrivano con gli aerei eccetera eccetera tutti quelli dell'esercito tutti quelli degli stati eccetera dovrebbero essere tutti a conoscenza di questo enorme complotto e tenerlo silenzio e nessuno nessuno parla ora questo non è compatibile con il funzionamento base del mondo la gente se tu l'unico modo per tenere un segreto è saperlo da soli e non dirlo e qualche volta anche gli scappa quando in una stanza ci sono tre persone e si dice una cosa quella roba esce e tutti lo sappiamo d'accordo questo è un esempio ma anche che ne so uno che ci dice che c'erano il servizio delle iene io detesto le iene ma quel servizio mi aveva fatto ridere sui terrapiattisti no ha senso la storia della terra piatta in relazione a come il mondo funziona di base no non ha senso bisogna inventarsi delle strampalate teorie per riuscire a farci stare dentro le varie cose allora cerchiamo di rimanere in qualche cosa di coerente a quello che sappiamo essere intorno a noi questo è importante numero 5 questo è molto interessante qualcuno ha provato a rifiutare questa cosa e a disprove si dice in inglese non mi viene il termine in italiano a rifiutare sarebbe ma provare che questa teoria questa informazione non funziona cioè hanno fatto degli esperimenti per attaccarla a questa cosa perché è sempre bene andare a cercare i punti di vista opposti ecco questo è molto importante e ci dà un aggancio anche per lo studio lo studio è molto più efficace quando è uno studio di tipo problematico cosa vuol dire problematico vuol dire che mi pongo un problema e cerco la soluzione è interessante sempre quando si studia andare a cercare cosa ne pensano se c'è un argomento controverso cosa ne pensano le due parti confrontarle cercare di mettersi di esporsi a teorie alternative a teorie diverse valutare i pro e i contro eccetera eccetera questo aumenta quindi lo studio problematico aumenta il ragionamento aumenta la necessità di sforzarsi per capire le cose e consolida lo studio ecco quindi come un approccio di tipo critico può potenziare anche la nostra capacità di imparare ed è sempre bene confrontarsi con qualcuno che la pensa diversamente da noi per vedere per verificare se magari non ci siano delle prove che ci sono sfuggite questo è molto importante e ve lo dico fin da subito questa roba qui fa schifo cioè andare a cercare la gente che ci dà torto è brutto è brutto è brutto è brutto non piace a nessuno avere torto è uno schifo a tutti noi piace un sacco un casino avere ragione ma proprio tanto però bisogna allenarsi bisogna addestrarsi all'idea che avere torto non fa male quello che è sbagliato non è avere torto è avere torto e perseverare dopo che anche abbiamo dimostrato che quella cosa lì non funziona il rasoio di Ockham scrive Luca Catellani scusate se sono in ritardo con le risposte su Facebook ma ogni tanto il programma non prende le risposte su Facebook non so perché rasoio di Ockham assolutamente il rasoio di Ockham è il principio per il quale in latino il rasoio di Ockham suona così adesso ve l'ho fatta ve l'ho sparata in latino perché così faccio figo ma che cosa vuol dire vuol dire che se devo dare una spiegazione non è una buona idea quella di aggiungere elementi che non sono necessari per cui spesso viene banalizzato dicendo la soluzione più semplice è quella giusta non è così è se ho due spiegazioni una lineare e l'altra che per funzionare devo aggiungere enormi quantità di cose perché se no non tornano i conti devo aggiungere l'effetto Pacman perché altrimenti la terra piatta non funziona e dove sta l'Australia più devo aggiungere più diventa improbabile che quella quella cosa sia vera ecco questo è importante Pietro Croce mi dice un nome Iina la fusione a freddo ciao ciao perdere ciao perdere Iina e va bene Nicolo dice esistono modi alternativi rispetto al metodo scientifico per verificare l'autenticità di un pensiero dipende dipende da che cosa vuoi dire allora il metodo scientifico è un approccio è l'idea che per distinguere se qualche cosa è vero è falso bisogna metterlo alla prova quindi il metodo scientifico è una presa di posizione filosofica empirica ok significa che se io voglio dire voglio dimostrare che che ne so adesso mi viene in mente che c'è la gravità faccio l'esperimento di far cadere qualche cosa adesso sto sparando una cazzata a caso non esiste un metodo diverso da questo più efficace di questo per verificare per verificare se un un qualche cosa è davvero così oppure no cioè il metodo empirico potremmo chiamarlo così o scientifico potete chiamare come volete è il concetto che bisogna testare ok ed è la migliore idea che è venuta a qualcuno nella storia dopodiché a volte non è sempre possibile fare un esperimento e io direi che quindi il secondo strumento che possiamo usare oltre alla scienza vera e propria è la logica la logica è la disciplina per la quale si analizzano i pensieri o le cose che le persone dicono o pensano e si verifica che siano sensati ovvero che siano logicamente consistenti adesso sto usando dei termini un po' così che reggano va bene il fatto che un pensiero regga non significa di per sé che sia vero o falso ma significa che quantomeno ha un senso ok bene ecco quindi le due armi che secondo me possiamo definire tali per distinguere se qualcosa ha senso o no è autentico oppure no sono il metodo scientifico e la logica uno è figlio dell'altra naturalmente però la logica può essere applicata anche a una persona che parla il metodo scientifico invece è qualcosa che lavora su l'empirismo su dati su fatti su cose che succedono eccetera ecco vediamo andiamo avanti nella nostra ricerca delle varie domande per aumentare la nostra capacità critica numero 6 dice cosa dice verso dove punta la preponderanza delle prove ecco questo è quello che dicevamo anche prima non una prova una prova non vuol dire niente noi ne vogliamo tante che puntino tutte nella stessa direzione ok dobbiamo essere in grado quindi di riconoscere la grande maggioranza del consenso scientifico della gente che si occupa di una certa cosa dove punta un caso è il caso molto importante in questo tempo è quello del surriscaldamento globale circa il 95 96% degli studiosi che si occupano di questo concordano che sebbene le modifiche al clima siano periodiche in generale sulla terra ci sia un forte influsso delle attività umane nel surriscaldamento terrestre in quest'epoca c'è un 4% di altri scienziati che lo negano lo mettono in dubbio eccetera eccetera 96 a 4 però dobbiamo vedere dove puntano dove puntano le prove la grande maggioranza delle prove dove ci indirizza ecco questo è molto importante quindi ricordatevi sempre che un una prova non è abbastanza ne vogliamo tante ok bene 7 e qui chiaramente vabbè Schermer naturalmente batte molto sul tema queste 10 questi 10 punti secondo me sono in parte anche un po' ripetitivi dice si sta giocando secondo le regole della scienza ecco questo è un punto un po' complicato e in questo in questo video non avremo il tempo di scendere tanto in dettaglio su questo perché dovremmo spiegare come funziona il metodo scientifico e non è facile ci avevo già fatto un video su come funzionava il metodo scientifico una pillola diversi mesi fa magari la ritirerò fuori magari ci faccio un video un po' più approfondito perché è una cosa importante da sapere però in generale ci sono delle regole e queste regole bisogna seguirle perché se non le seguiamo non ha senso neanche discutere d'accordo se che ne so una persona rifiuta l'idea che bisogna mettere alla prova un'affermazione per decidere se è vero e falsa il discorso finisce lì cioè se non accetti nemmeno che si deve fare un esperimento e di che cosa stiamo parlando purtroppo bisogna accettare anche il fatto che a volte certe cose vanno semplicemente scartate senza farci più domande cioè se una cosa non ha senso non ha senso e basta ecco numero 8 ci sono evidenze positive quindi come al solito sempre la valutazione delle evidenze sia negative sia positive la numero 9 ecco questa è molto interessante la nuova teoria o la nuova informazione riesce a dare conto anche delle prove precedenti questo è molto importante quando arrivano dei ciao a club certo che puoi farla la domanda quando arrivano delle nuove proposte tipo c'è quello che dice ah Einstein si sbagliava non esiste che ne so la gravitazione universale non esiste la forza di gravità la legge la legge che ne so la relatività non funziona eccetera propone una nuova teoria quella nuova teoria deve dare conto anche di tutte le altre cose che la vecchia teoria portava questo è quello che è successo quando Einstein di fatto ha sbugiardato se volete il lavoro di niente po' di meno che Sir Isaac Newton no Sir Isaac Newton ha scoperto la gravità gli ha dato una spiegazione e i calcoli di Sir Isaac Newton funzionavano Einstein ha detto sì i calcoli funzionano ma la gravità funziona in un modo diverso da quella che pensava Newton la sua proposta però che ha come dire spazzato via quello che pensava Isaac Newton doveva dare conto anche di tutte le altre cose perché con la formula di Newton si calcolava la forza di gravità e ci si azzeccava quindi quel calcolo funzionava allora bisognava riuscire a trovare una nuova teoria che tenga insieme quello che di buono c'era del vecchio e di essere una nuova spiegazione questo è il motivo per cui diventa sempre più difficile man mano che aumenta la conoscenza scientifica fare delle scoperte che spazzino via tutto quello che si sapeva prima succede succede ancora ma diventa sempre più difficile perché più cose sappiamo e più queste più una nuova teoria deve spiegare un sacco di materiale arretrato capite quindi diventa sempre più difficile vediamo cosa mi scrive a club ci sono dice dice a club per una domanda che non ha molto senso mi chiede se ci sono varie misure di preservativi o no sì ci sono varie misure di preservativi non vedo come questo abbia una forte influenza sul ragionamento critico ma tuttavia sì esistono quindi così come esistono dimensioni differenti di tutte le parti anatomiche immagino sospetto che anche per quanto riguardi insomma l'organo riproduttivo vaschile ci siano diverse dimensioni purtroppo caspita di certo ci sono anche varie misure di cervello aggiunge ciao Jessica nel frattempo aggiunge Granny si sono sicuramente diversi misure di cervello tuttavia abdicare al concetto per cui una persona è stupida e quindi è credulona e quindi non può imparare non può imparare il pensiero critico secondo me è una è una puttanata ve lo dico perché sicuramente è vero che ci sono persone più o meno intelligenti non c'è dubbio ma tutti possono migliorare la loro capacità di utilizzare la loro intelligenza purtroppo abbiamo parlato parlavo ancora anni fa ancora un anno fa quando facevo Mind Palace col mitico Dario Chiocchetta abbiamo fatto una puntata su come funziona l'intelligenza e il fatto è che l'intelligenza non si può aumentare da adulti ok tuttavia si può imparare ad usarla meglio questo è molto importante a club dice mi vorrei fare una prof onestamente tra me e te non me ne frega niente e sei nel posto sbagliato se vuoi dire cazzate eh chiaro bene detto questo andiamo avanti con la nostra con la nostra cosa dunque ah si la numero 10 ecco le come dire le evidenze il pensiero soggettivo influenza questa informazione di cui stiamo parlando ecco questo è molto importante ognuno di noi ha delle sue credenze ha delle sue una sua soggettività quando però parliamo di pensiero critico questa soggettività deve essere messa da parte si parla di pensiero critico quando si parla di qualche cosa che è come dire solido che è empirico che è reale che non fa parte della nostra interiorità che non fa parte del nostro modo di essere ma che fa parte del mondo della realtà ok quindi questo è molto importante per cui dobbiamo sempre domandarci se una certa informazione che abbiamo acquisito è viene viene da fuori dalla realtà o viene da dentro viene da quello che noi vorremmo che fosse la realtà ecco questo è sempre molto molto importante da domandarsi vediamo cosa scrive Nicolò per sviluppare la tua capacità di pensiero critico quali sono state le rinunce più difficili che hai adottato circa il tuo vecchio modo di pensare questa è una domanda molto molto intelligente Nicolò e ne parliamo subito allora a che cosa ho dovuto rinunciare beh innanzitutto ho dovuto rinunciare un po' all'arroganza che avevo quando ero un ragazzo dovete sapere che io quando ero un ragazzino ero molto consapevole diciamo così della mia intelligenza della mia capacità e mi sentivo un po' il figo della situazione no? ho imparato sulla mia pelle che il pensiero critico è sempre fortemente correlato al concetto di umiltà che non significa la modestia ok? sono due cose diverse l'umiltà non è il dire ah io non sono un granché non sono tanto intelligente no quello la modestia non ce ne frega niente l'umiltà è avere sempre presente nella nostra testa che ci potremmo sbagliare e che da chiunque potrebbe arrivare qualche cosa che ci è utile chiunque potrebbe avere più ragione di noi su un certo su un certo argomento ed essere pronti a cambiare idea quindi questa è stata una grossa rinuncia io da ragazzo avevo delle idee e quelle idee erano granitiche avevo ragione io e gli altri erano dei cretini punto ho imparato e questo mi ha fatto molto migliorare dal punto di vista del pensiero critico che così non si ragiona criticamente non è vero scetticismo comportarsi così quello è dogmatismo quindi non è tanto non è soltanto importante se hai davvero ragione oppure no è importante anche che tu sempre sappia che potrebbe devi essere aperto al fatto che potresti essere contraddetto e che potrebbe avere ragione un'altra persona quindi una delle più grandi rinunce che ho fatto è stato quello all'ego di dire ho sempre ragione io questo è molto molto importante e bisogna anche essere pronti a riconoscere di aver sbagliato e cambiare idea questo è importante nel mio lavoro per esempio questo è importantissimo io quando ho cominciato a creare il mio metodo di studio che poi volevo insegnare eccetera eccetera sono partito che avevo una serie di nozioni alcune delle quali erano false pseudoscientifiche lo dicevo prima la lettura veloce ma anche per esempio un altro esempio è gli stili di apprendimento non ne parlo spesso il concetto quindi del apprendimento visivo auditivo cinestesico tutta quella roba lì io ci credevo eccetera ho dovuto mi sono confrontato con la realtà mi sono reso conto che quelle cose non erano vere banalmente e ho dovuto cambiare idea e cambiare il mio metodo di studio per essere più vicino alla realtà ok quindi questa è stata una rinuncia poi vediamo quali altri rinunce ho dovuto fare beh una rinuncia se volete quella che le persone che sono appassionate magari di fantastico di fantascienza eccetera vorrebbero magari che la realtà fosse più magica se vogliamo di quello che in realtà è vorrebbero sempre trovare l'Harry Potter da tutte le parti e bisogna un po' rinunciare a questo bisogna rendersi conto che la natura è affascinantissima misteriosissima bellissima da studiare anche senza aggiungerci elementi magici che non c'entrano assolutamente niente Nicola mi scrive finalmente riesco a vedere una diretta indiretta sono molto contento Nicola che tu riesca a vederla oggi una diretta un po' più light del solito nel senso che stiamo parlando di appunto pensiero critico così quattro chiacchiere tra amici mettiamo in pausa il metodo di studio duro e puro per un'oretta e insomma parliamo di una cosa che mi appassiona e tra l'altro mi piacerebbe che mi scriveste qui sotto mi faceste sapere se vi piace che io parli anche di altri temi ogni tanto rimarrà sempre il metodo di studio il cuore chiaramente ma mi piace io ho molte passioni molte cose di cui mi occupo e che mi interessano e una di queste è proprio il pensiero critico e quindi mi piacerebbe sapere se vi piace che io ne parli oppure se non volete mai più sentirne parlare e allora giustamente il pubblico comanda da questo punto di vista ecco quindi queste sono le dieci domande che ci fa Michael Shermer un altro un altro passaggio che vi condivido sempre di Michael Shermer perché oggi come vi dicevo è questo il come si dice la persona il personaggio che ci sta guidando eccolo qua è il manifesto dello scetticismo che è un articolo anche piuttosto lungo dove però spiega esattamente che cosa vuol dire scetticismo è in inglese però sparatevelo perché è molto figo credo che ci sia anche una traduzione se non ricordo male anche sul sito del CICAP forse se non sapete che cos'è il CICAP andate a cercarlo Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni sulle Pseudoscienze fondato nell'89 da Piero Angela ed è un po' l'associazione che si occupa di verificare appunto le Pseudoscienze il Paranormale tutte quelle cose lì ed è l'associazione scettica per definizione in Italia quindi molto interessante vediamo cosa dice Nicolò dice se una persona mi dimostra che ho torto alla fine sono o dovrei essere felice perché mi porta ad una crescita personale questo è verissimo tuttavia c'è anche l'aspetto emotivo dal punto di vista puramente razionale e logico se mi dimostri che ho torto mi stai facendo un favore dal punto di vista emotivo mi stai rompendo le palle quindi la cosa più difficile del mondo è dire ci avevo torto io e ci aveva ragione lui non è facile però quello che dici è sicuramente vero dovremmo essere grati a chi ci dice no ti sbagli su questa cosa ok vediamo cosa scrive Fabrizio certo a me piacerebbe approfondire i bias cognitivi eh ne ho parlato avevo fatto una serie di video proprio sulle fallacce logiche sui bias cognitivi tornerò a farlo perché mi piacerebbe parlarne questo è un argomento con cui possiamo anche andare avanti due tre minuti il concetto delle fallacce logiche è un quindi gli errori di ragionamento che vengono a volte proprio dal ragionamento stesso a volte dalla dalla biologia del cervello sono tutta una serie di strumenti che è importante conoscere per imparare a smettere di ragionare in modo scorretto non so se sono stato un po' convoluto adesso vi condivido adesso vi sto per fare un regalo perché vi sto per condividere una risorsa eh cioè qua veramente dovrei farmi pagare per questa cosa perché guardate vi sto per mettere un sito che a me ha cambiato la vita va bene una roba e non sto scherzando sono ironico perché mi piace fare la battuta ma è veramente un sito fenomenale e se parlate in inglese vi si apre un mondo aspetta che ve lo cerco che cos'è è eccolo qua è l'intera classificazione intera va bene delle fallacce logiche una per una spiegate con tutti gli esempi precisissima bam guardate ve lo sparo qua bam la tassonomia di tutte le fallacce logiche ho perso su questo sito ho perso investito tanto di quel tempo che non vi fate ingannare dalla grafica minimale giallognola anche piuttosto brutta diciamo la verità gli articoli sono scritti benissimo e ti spiegano proprio come funziona quell'errore di ragionamento lì eccetera 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 questo per esempio è uno strumento che io uso spesso per confrontarmi col mio stesso modo di ragionare e capire dove sbaglio e sbaglio continuamente ecco una cosa che bisogna eradicare fin da subito è l'idea che se uno è un appassionato di logica di pensiero critico ha sempre ragione tuttanate tutti si sbagliano la differenza tra un pensatore critico e un pensatore non critico non è la quantità di volte che si sbagliano è quanto velocemente ci si accorge di sbagliare e si si e si ritorna sulla strada giusta questo è importante tutti sbagliano tutti credono alle puttanate tutti si bevono le bufale tutti tutti beh la differenza è quanto in fretta ti accorgi di aver sbagliato nel mondo di oggi è fondamentale avere questo e io e qui mi ricollego al concetto del metodo di studio non solo per credo che il pensiero critico sia utile allo studio perché dobbiamo abituarci all'idea che studiare è mettere in discussione studiare è interagire con le informazioni sapete che nel mio metodo di lettura efficace e anche nel mio metodo di studio completo nel mio videocorso eccetera io incoraggio la gente a porsi domande la domanda è l'elemento fondamentale dello studio indago quello che è scritto sul libro quello che dice il professore lo metto lo testo estrapolo le parole chiave estrapolo eh ci faccio il mio schema il mio ragionamento bla 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 mi testo attraverso domande il fatto di avere una mente allenata alla criticità mi rende più rapido a individuare le parole chiave mi rende più rapido a leggere il libro cioè ha delle ricadute va bene ha delle ricadute positive e io credo per esempio che questo sia un grosso una grossa mancanza della scuola sia italiana che internazionale perché da che ne so io tranne casi rarissimi professori illuminati scuole particolarmente eccezionali il pensiero critico non è una materia non è una materia da nessuna parte e dovrebbe esserlo e sapete come si deve chiamare quella materia filosofia si deve chiamare che purtroppo è una materia che si studia solo in certi licei e in realtà si studia la storia della filosofia quindi magari uno sa tutto dei presocratici e di anassimandro e di anassimene e del noumeno e di che ne so spinosa tutta gente interessantissima però non impari gli strumenti di ragionamento ecco io credo che sia fondamentale insegnare la filosofia intesa come la capacità di ragionare la logica argomentativa lo scetticismo il metodo critico bla 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 dovrebbe essere una materia scolastica perché nel 2019 la nozione cioè sapere in che anno è nato o è morto Garibaldi è qualche cosa che noi abbiamo a disposizione con un click un tempo questo non succedeva cioè una volta o tu sapevi di tuo quando era nato Garibaldi e quando era morto o quando era iniziata la guerra o quello che è o lo sapevi oppure avevi solo due scelte andare in biblioteca che voleva dire uscire di casa sbattersi oppure avere un libro in casa oppure scelta numero 3 trovare qualcuno che lo sapesse ma in generale non era facile accedere a un'informazione io mi ricordo io voglio dire io faccio 30 anni tra poco ne ho 29 quindi non sono un vecchio sono ancora un ventenne ancora per qualche mese mi ricordo quando ero bambino per me era era solito ero solito usare l'enciclopedia virtuale usavo in carta in carta 99 e avevo in casa anche l'enciclopedia ce l'ho ancora la mia enciclopedia dei miei nonni addirittura una di quelle sapete quelle edizioni gigantesche tipo tre cani eccetera e cercavo la roba lì oggi questo non c'è più bisogno non è più difficile quindi siccome è diventato molto più facile accedere alle informazioni quello che resta da fare è imparare come usarle quelle informazioni il pensiero di Umberto Eco era molto interessante su questo Umberto Eco diceva proprio questo dobbiamo riuscire ad addestrare la gente a gestirle queste informazioni a scremarle a distinguere e la capacità di scremare tra ciò che mi serve e ciò che non mi serve tra ciò che è vero e ciò che è falso tra ciò che è corretto e ciò che è scorretto tra ciò che è logico e ciò che è irrazionale è di fatto lo stesso muscolo che poi mi servirà per studiare in maniera critica e imparare più velocemente quindi c'è sebbene siano due campi separati l'uno dall'altro lo studio e il pensiero critico vanno di pari passo perché i muscoli necessari per fare una cosa sono gli stessi muscoli che servono per fare un'altra e quindi allenare queste due cose non può che essere potenziante ok? vediamo cosa scrive Nicolò esistono strumenti di ragionamento di tua conoscenza che non siano figli della filosofia occidentale ad esempio filosofi indiani o cinesi ecco questa è una domanda interessante io ho studiato parecchio filosofia cinese per la verità scusi cinese orientale sia cinese che indiana moltissimo ho studiato molto il buddismo eccetera perché mi interessa molto e perché mi piace la filosofia quindi sostanzialmente ora non c'è dubbio che il pensiero razionale scientifico di oggi sia un percorso che arriva nasce diciamo così in Grecia in Medio Oriente perché anche la tradizione araba era fortemente scientifica i grandi filosofi del passato vengono dalla Grecia e dalla zona del Medio Oriente e poi arriva in Occidente quindi l'illuminismo che ci porta alla scienza come la intendiamo oggi è figlio della società occidentale non c'è dubbio su questo tuttavia questo non significa che ed è questo importante non significa che in Oriente non fossero non fossero razionali non fossero logici non sapessero fare scienza tutt'altro l'impero cinese aveva delle scoperte scientifiche pazzesche ecco quello che a me piace del metodo scientifico e dell'idea razionale è che non è sebbene storicamente sia nato come lo conosciamo oggi in un certo posto non è figlio della filosofia occidentale o della filosofia orientale è proprio emerge spontaneamente laddove vogliamo far funzionare le cose noi lo possiamo chiamare in mille modi diversi ma se io voglio fare stare in piedi un ponte devo fare i conti devo fare delle prove devo fare degli esperimenti che io sia cinese indiano americano eccetera e quindi spesso chi fa la tua non sto dicendo che tu stai dicendo questo Nicolò tu ci scrivi secondo me da questo punto di vista oltre alla filosofia ci aiuta anche la lettura di testi classici assolutamente il greco e il latino sicuramente non sto dicendo che tu stai criticando Nicolò ma dico che spesso chi fa questa domanda la domanda del è ma allora la filosofia orientale oppure qualche cosa che sia figlio di un'altra filosofia non si rende conto a volte che il linguaggio del razionalismo e della scienza e del è universale lo possiamo chiamare in modi diversi e sicuramente storicamente è fiorito di più in un posto che in un altro ma non è non è differente il bello della scienza di questo modo di ragionare è che non ha barriere funziona ugualmente gli stessi conti che fanno stare in piedi un ponte a Padova dove abito io sono gli stessi che fanno stare in piedi un ponte a Tokyo o a Bombay ok e questo è il bello a me piace per questo per cui è bello studiare tutte le filosofie la filosofia per esempio orientale cinese è molto interessante il taoismo cioè mille cose però quando si parla di pensiero critico di scietticismo è una lingua universale è una lingua universale funziona sempre perché si basa sulle evidenze scientifiche sulle evidenze della realtà ecco vediamo cosa dice più che la lettura fosse lo studio etimologico certo ecco anche lo studio etimologico può essere utile nel senso che andare a cercare l'origine delle parole perché no non fa mai male però in generale credo che serva soprattutto l'umiltà di dire voglio mettere alla prova non voglio dare per scontato di avere ragione ok quindi sempre domandarsi questo allora vediamo cosa mi scrivete anche su facebook vediamo se mi sono perso qualche cosa no perfetto vi ho condiviso andatevi a vedere i file che vi ho condiviso perché sono molto utili tra l'altro da quant'è che sto sproloquiando un'ora ormai 55 minuti oggi questo questo tema mi appassiona quindi ho fatto questo esperimento ho fatto una live per la prima volta su un argomento che non c'entra molto in maniera diretta c'entra in maniera indiretta con il nostro tema principale però mi pare che vi sia piaciuto quindi naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate magari potremo tenere una live quella del martedì super specifica sul metodo di studio e magari la live del giovedì farla su altri temi che mi interessano magari parlare anche di letteratura perché no di cose di filosofia di roba che mi piace e magari di roba di cui so qualche cosa perché c'è un sacco di cose che mi piacciono ma di cui non so assolutamente niente e non è il caso di parlarne in macchina ecco quindi vorrei sapere qui sotto da voi questo mi piacerebbe le volte che avete preso le più grosse cantonate logiche di tutte io la questione degli UFO è stata quella che in assoluto ci ho creduto un casino e per un periodo quando avevo appunto 16-17 anni mi capitava anche di mettermi sul tetto di casa mia e cercare gli UFO nel cielo ero veramente super super invasato io sono un mega appassionato di fantascienza questa cosa quindi quella me la sono bevuta tantissimo e poi ne sono uscito diciamo così quella degli antichi astronauti come dicevo ho detto una serie di cose una serie di cose vediamo così in cos'altro è che ho creduto di veramente assurdo che non aveva nessun senso che poi ho creduto le bufale sul metodo di studio che chiaramente ne abbiamo parlato tante volte e lì ce n'è quante ne volete cos'è che ho creduto ancora di pseudo scientifico ma c'è stato un periodo che sono stato affascinato ecco questo è interessante un periodo che sono stato affascinato dal concetto della legge dell'attrazione non so se sapete che cos'è la legge dell'attrazione è quell'idea strampalata un po' new age se volete un po' figlia del mondo della motivazione all'americana da cui poi come sapete mi sono ben allontanato dell'idea che se tu sei positivo se tu credi davvero in qualcosa se tu desideri l'universo farà in modo di farti avere quello che vuoi e quindi se tu desideri tantissimo diventare milionario un giorno diventerai milionario e via così ovviamente è una puttanata penso che non ci sia bisogno di dirlo però per un bel periodo ne sono rimasto affascinato e quindi ho ancora a casa il libro The Secret tra l'altro un libro veramente pietoso l'ho riletto dopo anni con una consapevolezza critica maggiore e mamma mia ho fatto fatica arrivare alla fine vediamo cosa dice Nicolò mi ricordo che all'epoca ma ero piccolino mi venne una gran paura nei giorni immediatamente precedenti alla fantomatica l'apocalisse dei maya ricordo di aver letto un libro che si chiamava 2012 l'apocalisse del mitico Giacobbo Giacobbo il padre della fanta archeologia italiana no voyager io me li sparavo tutti voyager quindi assolutamente quindi fatemi sapere qui sotto le cose più stupide a cui avete creduto e quali sono anche le vostre tattiche no di per districarvi nel mondo del web le bufale le cose cosa ne pensate mi piacerebbe appunto avere un po' uno scambio con voi su questo e vi do l'ultimo consiglio come si fa a sviluppare queste cose beh si parte si parte con umiltà dallo seguire i consigli di chi è più avanti di noi su questa cosa e quindi Michael Shermer sicuramente una persona che dovete seguire poi andate a seguire beh andate a seguirvi tutta la questione del CICAP in Italia Massimo Polidoro una persona che io stimo tantissimo che ho avuto la fortuna di conoscere dal vivo e che fa l'indagatore del mistero esiste un lavoro più figo dell'indagatore del mistero io vorrei vorrei fare a cambio veramente cioè va a indagare i misteri i fantasmi questo e quell'altro cerca di trovare se siano veri oppure no naturalmente spoiler finora nessuno era vero tutti i suoi libri sono interessanti tutti i libri del CICAP ma anche appunto Michael Shermer l'abbiamo detto altri scettici li ho nominati c'è il solito Richard Dawkins che va pesante sul tema della religione la legge di attrazione anche tu Fabrizio grande l'universo cospira per farti ottenere i tuoi risultati invece in realtà l'universo se ne strafotte alla grande e poi chi altro c'è Sam Harris che lo nomino sempre e poi ce ne sono veramente tanti se cercate critical thinking online viene fuori di tutto e di più ed è veramente molto molto interessante quindi fatemi sapere qui sotto quindi le vostre bufale boiate cose cui avete creduto i vostri sistemi per rimanere il più possibile duri e puri invece nella razionalità come la pensate e io la chiudo qui perché sono le 17 quindi adesso è esattamente 59 minuti e 30 secondi che stiamo sproloquiando noi ci vediamo naturalmente martedì prossimo per la nostra ADC Live del martedì giovedì prossimo lo stesso tutti i giorni con un nuovo video quindi ci rivediamo domani ancora una volta mettete mi piace condividete parlatene diffondete aiutatemi a crescere la mia attività social perché il mio pubblico è sempre molto fedele mi piace partecipiamo eccetera ma alla PNL amma mia ma cosa mi ha fatto tornare in mente i corsi di PNL sono un PNL un practitioner io figurati vabbè lasciamo perdere quindi dicevo il mio pubblico è sempre molto molto così contento avete guardato un sacco di miei video eccetera però cresco sempre molto lentamente forse perché tratto dei temi molto specifici e allora ho bisogno del vostro aiuto della vostra spinta per arrivare al livello successivo quindi ah vediamo mi scrive Paul Wilson proprio sulla chiusura e per cui gli rispondo i maggiori problemi per quanto riguarda il pensiero critico non è tanto quando si parla di scienza ma quando si discute di sistemi economico-politici lì è più difficile essere critici e confrontarsi verissimo ad esempio critica un sistema economico che magari esiste da secoli assolutamente in generale più una materia è complessa e piena di variabili difficili da gestire e più si entra nel reame delle opinioni la politica l'economia sono dei campi dove non c'è una risposta scientifica univoca ok questo è chiaro ci sono delle teorie delle opinioni che si confrontano eccetera eccetera ci sono degli esperti ma è qualcosa di molto molto difficile ecco lo stesso la psicologia cosa di questo tipo quindi sicuramente più le materie sono complesse e piene di variabili e più essere critici è difficile ma questo non significa che si debba abdicare diciamo che spesso è molto difficile capire su argomenti così complessi cosa sia vero e cosa no ma è facile capire quello che è completamente una stronzata quello è molto facile capire se sia meglio un sistema welfare state oppure un sistema liberista puro oppure così è molto complicato capire però che ne so che il signoraggio bancario per come ce lo presentano i complottari è una stupidaggine quella abbastanza semplice basta informarsi dieci minuti e si capisce ecco quindi quindi diciamo ci sono cose semplici cose complesse almeno quelle stupide del tutto ce le togliamo di mezzo il prima possibile quindi va bene la chiudo così speriamo che nessuno complottaro delle delle scecchimiche o del della terra piatta veda questa live perché sennò sono morto perché sapete che poi scrivono ho fatto un video ancora mesi e mesi fa sul metodo Bates che è un metodo fuffa pseudo scientifico per migliorare la vista in cui dicevo che la scienza lo ha demolito cosa che è vera e ancora ogni settimana arriva qualcuno che commenta che cazzo dici non è vero per me ha funzionato insomma quando si tratta il tema dello scetticismo delle pseudoscienze ci sono sempre gli invasati quindi speriamo facciamo silenzio speriamo che non arrivino qui bene io vi ringrazio per avermi seguito naturalmente ci rivediamo domani per il prossimo video e martedì prossimo per il prossimo ADC Live grazie di avermi retto anche il gioco con una live un po' diversa dal solito e spero che vi possa essere utile a presto e adesso facciamo partire la sigla di uscita ce la facciamo? forse sì ciao